Quattro mesi più il pagamento delle spese processuali per il titolare della ditta e una sanzione da 17.200 euro per l'impresa in qualità di persona giuridica e questa la pena combinata dal giudice monocratico del Tribunale di Solmona nei confronti di un novantenne di Viterbo, finito sotto processo per un incidente sul lavoro che si verificò il 7 febbraio sull'impianti sciistici di Roccaraso. L'imputato, nonostante la venerante età, è stato processato in qualità di rappresentante legale e amministratore unico di un'impresa che ha sede legale a Roma e che si occupa della gestione di funiculari e seggiovie della battitura delle piste da sci. La Procura le ha contestato la colpa consistita in negligenza e imperizia per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro che avrebbe cagionato le lesioni colpose di un operaio. L'incidente si sarebbe verificato mentre il lavoratore era impegnato sul mezzo battipista. Era intento a rimuovere un cumulo di neve in corrispondenza della stazione intermedia della cabinovia per consentire al mezzo di accedere al punto dove seguire l'operazione. Uscito dalla cabina sarebbe salito sui cingoli sfilando il perno che teneva bloccato in verticale il braccio del verricello. A quel punto il sistema barre rigide del verricello si sarebbe chiuso all'improvviso schiacciando il dito dell'operaio. L'uomo aveva riportato un trauma da schiacciamento a secondo dito della mano sinistra con frattura della falange. Non uno scherzo, dal momento che le lesioni avevano comportato una malattia di 85 giorni, un grado di invalidità del 3%, a 90 anni per il rappresentante legale dell'impresa è arrivata la condanna a 4 mesi che sarà appellata dal legale Cristian Rucci, pena sospesa.